bella a tutti ragazzi scusate la qualità subito parto con scusate la qualità perché non si può vedere questo video fa talmente cagare però lo devo fare per forza per portare un video al giorno perché si sono rotti due microfoni non potevo registrare con lo share dal playstation ragazzi vi porto questa sfida se entro il 5 agosto arriviamo a 100 like la scarto in caso mi faccio una gioco ancora prima che esce fifa 16 se no mi faccio un bel pack opening me la vendo mi faccio un pack opening anche se non avrebbe senso perciò sono fiero di arrivare cioè sarei fiero di arrivare a 100 like così mi prendo una soddisfazione io e voi pure vedendomi soffrire scartando questi giocatori soprattutto che in toz che è fortissimo lo voglio benissimo ha fatto 30 partite 50 gol è un grandissimo ve lo consiglio ragazzi viene questa squadra da una serie a toz i cadi franzi per in bonucci perciò felipe anderson perciò non è che costa pochissimo 200 200 k 220 ragazzi perciò il 5 agosto io al 23 59 vedrò nel video se saremmo arrivati a 20 like sia 20 like a 100 like se no pacienza è stata una sfida bella dai vedete sotto c'è 84 cc poco va perciò vale anche di più questa squadra perciò ragazzi ogni domenica porterò una live infatti lascerò l'annuncio venerdì alle 8 così saremmo di più non saremmo più quattro anche se l'altra volta non ci sono potuti essere tre persone di cui due youtube e ho quattro persone mi ricordo e questo eravamo 8 10 perciò pacienza però metto l'annuncio prima due giorni prima alle 8 venerdì così la vedete tutti e saremmo di più forse non lo so tanto per un canale piccolo e buono già la prima live abbiamo fatto 4 spettatori 5 nella prossima sarà migliore si va a continuare sempre ragazzi un video migliore a uno dietro a uno dopo l'altro scusate la qualità ve lo giuro ragazzi e poi porterò uno squad builder ragazzi vecchissimo dove dicevo all'inizio questo sarà la mia squadra e poi dicevo figliozzo perciò ragazzi scusate però è vecchissimo non ci fate caso a quel termine figliozzo perciò ragazzi arriva a 100 like la scarto bella a tutti ragazzi scusate la qualità veramente mi scuso veramente ciao